Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Voltago a Gordino perché abbiamo come ospite in studio il sindaco Giuseppe Schena. Buonasera, grazie a voi per l'invito, è sempre un piacere essere invitati a voi per farvi un po' il punto della situazione. Inizierei parlando, partendo proprio da un punto della situazione sulle opere pubbliche che stanno venendo avanti o che sono venute avanti nell'ultimo periodo nel comune di Voltago. Sì, allora diciamo che nell'ultimo periodo è stato un periodo davvero impegnativo per l'ufficio tecnico e in apertura di questa intervista ci tengo a rivendicare l'aumento dell'immu che abbiamo fatto come amministrazione garantendo così una copertura dell'ufficio tecnico da 18-36 ore e quindi, come avevo già detto, aumentare la capacità di spesa di questo ufficio tecnico. Aumentare la capacità di spesa significa aumentare i servizi cittadini. Come ho detto, l'ultimo mese si è caratterizzato da un ufficio tecnico molto, ma molto berato di lavoro. Abbiamo ricevuto due finanziamenti a valere sull'ordinanza 1.700 di protezione civile. sarebbe una rimodulazione della 558, ben conosciuta come l'ordinanza della tempesta vaia. Questi due lavori vedono il completamento della strada del poi. Lì abbiamo fatto del libera di giunta e l'intervento è teso a appuntare quelle migliorie, quei completamenti per preservare anche le opere già edificate. Ricordo che la strada del poi ha già visto ben due cantieri. Il primo con la 558 con 400 mila euro e poi un altro intervento di 90 mila euro con i fondi del Ministero in un'unità 2023. Non solamente sistemazione idraulica, ma anche la messa in sicurezza stradale con la posa di alcuni metri di barriere stradali, anche un intervento con la sostituzione sul ponte della Risina delle ringhiere attualmente presenti, anche lì con barriere stradali. Quindi contiamo così di aver aumentato anche la resilienza di questa opera. Ricordo che la strada del poi è una viabilità alternativa strategica che risulta un'alternativa all'SP3 e all'SP347. Spostandosi a Voltaigo, sempre con l'ordinanza 1.700, abbiamo ricevuto 350 mila euro per fare il completamento e la messa in sicurezza della strada comunale silvopastorale della Gioa. Mi spiego meglio. Sulla richiesta abbiamo trattato sia di strada silvopastorale che strada comunale per anche. Per anche, volevamo capire, avevamo degli interventi da fare sull'intervento che si era concluso di 388 mila euro sulla silvopastorale, ma al contempo con l'emergenza dell'ottobre-novembre 2023, le abitazioni che sono 3-4 abitazioni in località della Gioa e ricevevano ancora acqua dai versanti sopra. Logicamente la pubblica amministrazione cosa fa? In primo luogo mette in sicurezza le abitazioni ed è quello che abbiamo fatto con questo intervento e poi penseremo domani al completamento del giro della Gioa. Qui ricordo che i servizi forestali hanno previsto nel piano triennale delle opere pubbliche nel 2026 di 800 mila euro di interventi di regimazione idraulica sul bacino della Sanzana, quindi sia il torrente Sanzana completamente del giro della Gioa, ma anche il torrente Domador essendo un affluente del torrente Sanzana. L'intervento che facciamo, e ho detto qui in località della Gioa, è un intervento capillari di captazione delle acque e l'allangamento anche della viabilità comunale esistente per garantire l'accesso tempestivo ai mezzi di soccorso, ai mezzi antincendio e anche un domani mi viene da dire dei mezzi forestali sulla strada Silvoposto Valle della Gioa che necessita di un recupero di legname. Ci tengo a fare ancora un appunto, sapevate che quando abbiamo fatto quell'intervento prima sulla strada della Gioa abbiamo avuto dei problemi di accesso al cantiere, è chiaro che l'intervento che facciamo noi non è la soluzione eterna di questo problema qua, un domani che arriveranno i servizi forestali faranno lo stesso una bretella, ma i mezzi carati sulle gomme e quindi ammortizzati potranno passare su questa strada comunale. Poi abbiamo 150 mila Euro di intervento a Farsenè e la creazione della viabilità alternativa che raggiunge la località Savà e anche questo è un intervento davvero fondamentale, qui mi ricordo i cittadini, ricordo che quella strada è chiusa da ben 10 anni con ordinanza. Qui siamo stati, mi viene da dire, anche un po' affrontunati perché abbiamo ricevuto 54 mila e 400 Euro dal fondo del Ministero dei Trasporti, piccole manutenzioni delle strade e avevamo avanzato però una richiesta di 150 mila Euro, quindi 54 mila Euro non bastavano, non è che abbiamo letto, abbiamo preso solo 54 mila, lasciamo prendere, siamo andati in provincia a battere in cassa, approveremo nelle prossime settimane una quarta di programma per 50 mila Euro ulteriori e quindi arriviamo a 104 mila Euro. In fase di richiesta avevamo messo 10 mila Euro e qui ringrazio la frazione di Farsene perché con i preventi di un lotto aveva deliberato di aggiungere questi 10 mila Euro all'opera ed infine con il risultato dell'amministrazione 2023 abbiamo contemplato con l'avanzo libero per capirci e abbiamo concluso questo quadro economico, quindi anche questo è un importante intervento. Come dicevo, con il Consiglio Comunale del 23 settembre abbiamo approvato i progetti, quelli che passano il Consiglio Comunale perché sapete che la competenza è diversa aggiungendo il Consiglio Comunale, quindi quello della Gio e quella dei Savap anche abbiamo adottato le varianti al PRG, in sostanza dove vengono edificate queste opere in parente sono terreni agricoli che diventeranno strada e abbiamo apposto anche il vincolo per ordinato all'esproprio. Questi sono gli interventi mirati alla difesa idrogeologica. Abbiamo fatto anche un intervento di 50 mila Euro con l'anualità 2024 della legge 160 e qui è prevista una messa in sicurezza e una manutenzione della scuola primaria di Voltaro. Poi abbiamo fatto una convenzione con l'Unione Montana-Guandina per appaltare le opere, quindi quelle opere che non sono in affidamento diretto se non quelle le facciamo internamente e le diamo fuori all'Unione Montana. È stato appaltato il lavoro del Viale della Vittoria di Frasenè, annualità fondo di confine 2020, quindi anche lì vedremo adesso la tecnica delle fare la giudicazione definitiva, ma mi viene da dire che i lavori di Pantirano indicativamente questa primavera. Il lavoro del Campetto degli Alpini è iniziato, ci sarà una sospensione per la stagione invernale, la primavera prossima faranno la posa della resina sul terreno di gioco e indicativamente mi viene da dire che gli interventi sono questi. È chiaro che come programmazione abbiamo lavorato bene, questo me lo riconoscono anche i cittadini, mi dicono che sei un sindaco dinamico che ha prontato molte risorse, mi dispiace che in questo momento mi devo un po' farinare perché ho detto che non mettiamo troppa canna al fuoco e rallentiamo la macchina, però auspico che col prossimo anno, vedendo queste opere che vanno avanti, poi possiamo riprendere un'altra programmazione. Dal punto di vista delle opere in generale che abbiamo permesso in campagna elettorale, mi rimangono indietro le piste tagliafuoco con le forestali, faremo i progetti durante questo mandato, poi se decideremo di ricandidare, ci avremo ancora la fiducia ai cittadini, poi andremo avanti anche quello. Quindi questo è un po' il punto delle opere pubbliche al momento. A proposito di opere forestali, ci sono anche dei ripristini da fare o comunque già iniziati? Sì, ripristini forestali, sapete che il Comune di Voltago aveva ricevuto quel finanziamento per il clima a bando Dolomiti Unesco, aveva un intervento di 235 mila euro, lì abbiamo approvato il progetto è definitivo, aveva inviato per i pareri e poi andremo avanti con l'esecutivo. È stato appaltato il lotto bostrico poi 2023, un lotto stimato in presunti 6.600 metri cubi e lì sono iniziate l'operazione di esbosco e poi è ben sentito in paese il viperistino del materiale tagliato sotto la linea Enel che sale dall'Arafadore verso il rifugio Scampa e lì in queste settimane qui sono in fase di definizione la trattativa, l'affidamento privato dei lavori a una dita e poi inizieranno anche quelli. Io spero che in un mesetto riescano a togliere tutto il legname e se poi viene la neve anche quello verrà completato la primavera prossima. Però anche qui abbiamo dimostrato una sensibilità perché non ci siamo farmati a voler togliere solamente il legname tagliato all'Enel. C'era uno skillift che saliva, un pianto di risalita verso Margalosca e abbiamo fatto il ripistino a stato di luoghi in questo progetto. Quindi grazie ai proventi del lotto che dicevo prima Bostico e poi 2023 una parte di questi, più o meno 50 mila Euro sono destinati a questo ripistino ambientale. E' chiaro che questo ripistino ambientale quando oltre non ci fermiamo lì sapete che poi abbiamo il milione e due di Margalosca è stata affidata alla progettazione e in fase di concentrazione con lo strategico ultimo dei fondi di confine in teoria riceveremo ancora 300 mila Euro e ci tengo a ringraziarvi pubblicamente sia il senatore Luca De Carlo che il presidente del fondo Dario Bond che ho avuto l'onore di averli a Voltago e ho condiviso con loro le nostre idee di potenziale creare un giro delle marghe un percorso del bike in quota una riqualificazione delle marghe ed avere un tassello fondamentale che anche loro hanno concorvato su questa prospettiva futura e ci tenevo a dirgli grazie. Passiamo ora ai temi del sociale e insomma anche del rapporto con la cittadinanza come vi siete mossi che cosa si è mosso a Voltago in questi ultimi mesi? Sì, allora per sociale devo dire che la consigliera Michela Lai è sempre molto attiva e la ringrazio anche ad avere una sensibilità e una peculiare impostazione per trattare questo tema importantissimo anche contro lo spopolamento. Il 6 luglio 2024 abbiamo inaugurato la macchina per i tuoi spolanti solidali una macchina davvero importantante che proprio sappiamo che le macchine ancora da sole qua in Italia almeno non vanno e quindi ringrazio anche i volontari dell'Auser che garantiscono questo importante servizio. Ringrazio sia l'Auser del Broi di Aguardo che già in origine nell'autunno 2022 ci ha dato una mano a mettere insieme questo gruppo. Ringrazio il BIM che ha partecipato alla spesa assieme all'Auser del Broi di Aguardo di questa macchina e anche i frazionisti in questo caso di Frasene che sempre con una quota di quel provento del lotto che vi dicevo prima ha finanziato con 5 mila Euro questo acquisto. La macchina ha a disposizione logicamente del comune di Voltago ma di tutti i comuni del Poi e anche del comune di Aguardo per i servizi che fa l'Auser del Broi. Poi abbiamo riconformato il servizio centroestivo insieme al comune di Gosardo anche quello che quest'estate è stato un successo avevamo il pienone di bambini e questo sta a significare che sebbene le comunità sono piccole se te i servizi li fai e ti impegni hai le riscontro ed è fondamentale per garantire il presidio dico io della montagna. Il servizio dopo scuola è pantito abbiamo 15 bambini alla scuola primaria più o meno mi sembra che frequentano il servizio dopo scuola sono 12 bambini in tutto abbiamo una decina di bambini all'infanzia quindi anche lì stiamo andando avanti e questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda il sociale poi abbiamo fatto anche una consegna di targhetti a dei cittadini meritevoli e quindi voglio riconoscere qui con voi questa sera in questa intervista perché ho visto quel giorno tanta emozione e commozione e per me è stata una cosa che mi ha pianto da avere per il cuore e ho detto anche al consigliere che mi ha dato una mano abbiamo fatto da avere una bella cosa avevamo iniziato nel 2022 con Luigi e Rivis l'attività di Paternostan dell'alimentari abbiamo deciso di portarla avanti nel 23 non avevamo iniziative date significative invece nel 24 avevamo i 30 anni di attività della dottoressa Franceschina Lilaura con la farmacia di Fersenè avevamo i 60 anni dell'attività del bar alpino comprese due generazioni insomma Miana Massimila il marito Ivo e poi Grazia della Lucia e Celeste della Lucia che è il figlio di Massimila siamo i figli poi avevamo gli 80 anni di Bruno Zanviti sindaco per la comunità nostra insomma 20 anni a cui va sempre il mio applauso per l'impegno che ci ha messo a fare il sindaco 20 anni garantisco io che so bene come funziona adesso non è facile e poi avevamo la macelleria di Voltaro con 45 anni di attività candido per i senti abbiamo voluto anche qui dimostrare un segno di sensibilità di vicinanza come pubblica amministrazione crediamo che e l'ho detto anche quel giorno lì nell'intervento che ho fatto loro che hanno dell'attività per il pubblico fanno parente del tassello della parola comunità e quindi come pubblica amministrazione cerchiamo di intervenire perché dovete sapere che la macelleria di Voltaro è chiusa definitivamente da alcuni mesi perché candido ha avuto problemi di salute per fortuna si è ripreso adesso sta meglio e mentre il bar alpino di Celeste della Lucia e Maria Grazia sono alla ricerca di un subentro quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una delibera di giunta la delibera di giunta numero 51 dando mandato agli uffici di divulgare sui mezzi e sui canali di informazione del comune una relazione che queste attività hanno mandato al comune alla ricerca di persone interessate al subentro abbiamo fatto questa delibera abbiamo dato evidenza sia sul sito del comune sia sul canale telegram e l'auspicio è quello che si possa avere qualcuno che subentra a queste importanti attività perché senza attività senza servizi come ho detto prima i presidi di montagna spariscono sabato ricorderete un ottantesimo anniversario di cosa? sabato sabato 12 ottobre 2024 è l'ottantesimo anniversario dei tragici fatti del 12 e 13 ottobre 1944 indubbiamente la memoria fondamentale abbiamo il dovere come comunità di tenere viva la memoria e qui parliamo di fatti del rastrellamento che hanno fatto i nazisti proprio il 12 ottobre 1944 hanno ucciso sulla piazza di Voltago giusto Polazzo hanno ucciso lì vicino Lovis Cussel e poi hanno dato fuoco a 20 abitazioni in paese e anche al municipio di fatti la memoria storica del municipio di Voltago parte del 1945 quello che penso io è che avevo un dovere come amministrazione di ricordare questi fatti e soprattutto far capire alle persone che sono passate 80 anni ma 80 anni non sono niente 80 anni sono un battito di ciglia ci guardiamo indietro e dobbiamo immaginare quello che hanno sopportato i nostri anziani e qui voglio ricordare che è Pierretto Polazzon che ci ha lasciato settimana scorsa per l'ultimo superstito di questo restrenamento a lui avevamo fatto la festa in occasione di 100 anni e quindi lo volevo ricordare quel giorno però lo faccio qui oggi e lo farò sicuramente il 12 ottobre quindi io invito come funziona la cerimonia insomma ci sarà la messa alle 9.30 per seduta da Don Fabiano poi la deposizione alla Corvona sul CIP proprio di loro discorso e le giuste Polazzon e infine un convegno per solo la sala maestra di Cola Voltaro e io invito tutta la cittadinanza a partecipare ci sarà la presenza di alcune persone che appuntano le testimonianze dei propri cari ci saranno i bambini della scuola primaria anche loro che interverranno quindi immagino sia da avere una bella giornata dedicata alla memoria chiudo ancora due temi in attimo sulla cultura consigliere Bersang ha portato avanti un calendario davvero corposo di eventi quest'estate siamo partiti a luglio con delle serate di Erobranto Fauro che lo ringrazio perché è venuto a titolo gratuito ci ha fatto passare davvero delle belle serate abbiamo fatto un convegno sul Bostrico abbiamo fatto il progetto Radice memoria storica di Voltago 20 foto Voltago 20 foto Fersene ricordando dei tempi trascorsi e il prossimo anno andremo ad implementare questo progetto qua e l'ultimo che abbiamo fatto insomma il 5 ottobre i parenti o meglio il nipote Giovanni della Lucia il nipote di Giuseppe della Lucia ha fatto una mostra privata a Fersene appena al pubblico al quale abbiamo dato il patrocino e abbiamo inaugurato questa mostra con Don Fabiano del Favero significativa mi viene da dire la scelta di questo ragazzo che ha 19 anni di dedicare un pezzo della propria abitazione non ad una zona relax come voleva fare ma una zona dedicata alla memoria alla storia dei primi del Novecento e una mostra dedicata va bene al nonno ma anche agli attrezzi di un tempo che abbiamo bisogno di prendere in mano grazie mille per essere stato con noi grazie mille a voi un saluto a tutti i cittadini e ci vediamo al prossimo e quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni Grazie mille a tutti i cittadini a tutti i cittadini grazie mille a tutti i cittadini Grazie a tutti.